Il corpo ha recentemente dato vita inoltre a una significativa revisione organizzativa del proprio comparto navale, adeguandolo all'evoluzione dello scenario geopolitico del Mediterraneo e in particolare al contrasto dei traffici illeciti e dell'immigrazione clandestina. In questo quadro si inserisce la creazione di una componente alturiera e di una regionale. Alla componente alturiera è affidata la difesa avanzata a tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato e il controllo del Mediterraneo per la sicurezza degli scambi contro il traffico di persone e di prodotti illeciti attraverso una più stretta collaborazione con i paesi rivieraschi dell'Unione Europea e tutti gli altri Stati aperti allo sviluppo di una comune cornice di sicurezza. La componente regionale in cui operano i reparti operativi aeronavali articolati su una stazione navale e una sezione aerea svolge compiti di sicurezza nelle acque territoriali e interne e di polizia economico-finanziaria tipici delle fiamme gialle nei confronti delle attività direttamente correlate al mare, alla portualità e alle operazioni commerciali. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS